Oggi Shana vi mostrerà il primo tutoring online su come fare una canna. Prendere l'erba, prendila con i giampini puliti. Se non avete un grinder, sminuzzarla con le mani, con le dita. Testare la qualità eventualmente dell'erba al gatto, che è molto più intenditore di noi, è light. Lei adora le foglie di questa erba e se le mangia. Quando il gatto dice che avete sbriciolato bene l'erba e controlla, potete aggiungere un po' di tabacco, altrimenti sarebbe bene consumare la canna pura. Però diciamo che questa è una sorta di riduzione del danno per i tabaggisti, cioè per quelli scimmiati che comunque si devono fumare una sigaretta. E così in questo modo evitano di impuzzolire la stanza solo con il tabacco. E ne guadagnano comunque un minimo minimo in salute, un po' perché non buttano soldi in sigarette, hanno una cartina di riso, un filtro, in questo caso in carta, ma potete prendere anche filtri riutilizzabili. Shana ormai è andata via. Bene, ciao!